Ciao a tutti carissimi amici di Acustica e oggi come succede quasi sempre tutti i giorni ci è venuto a trovare un grande batterista il nostro carissimo amico che è Freddy Malfi un endorser tra i primi del nostro negozio ormai abbiamo un rapporto di collaborazione da oltre 20 anni e anche endorser della Peel, delle bacchette Roll, dei piatti Sabian e a questo punto ci è venuta l'idea di scartare un po' di rullanti visto la grande produzione di rullanti Peel sia di vari modelli normali che Signature la Peel produce tantissimi Signature per tutti i gusti e abbiamo voluto farli suonare dal nostro Freddy in modo che possiate ascoltarli e quindi niente, buon divertimento con Freddy Malfi a tutti i gusti Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.